E' la quarta giornata nel campionato juniores di Serie D siciliana, la Nistal e Tomaselli, ospite in Licata, padroni di casa che nell'ultimo turno hanno pareggiato per 2-2 contro il Castrum Favara, ospiti reduci dalla vittoria a Casalinga per 2-1 contro l'Enna, le formazioni i padroni di casa della Nistal, Russo, Di Graci, Garifi, Morello, Chiarelli, Mannino, Abate, La Monica, Torregrossa, Massaro e Sissè, risponde Licata, Grillo, Morina, Lanza di Stefano, Bonvissuto, Bonavita, Genduso, Saidecian, Vecchio, Bennici e Russello, la partita è affidata al fischietto del signore Ettore Maria Occhipindi, iniezione di Enna si parte col firme del primo tempo, 12 minuti punizione di Torregrossa, c'è la deviazione della traversa e il pallone finisce in rete, bellissima però la sua esecuzione, il portiere sorpreso la Nistia avanti, alla 25esima ancora i biancoscutati che cercano di spingere, grazie anche a un pressing alto e a recupero palla di Mannino, il pallone in verticale dove Sissè arma la conclusione, bella la preparazione da dimenticare però l'esecuzione, al trentesimo Abate cerca a sinistra la Monica, il pallone dentro dove c'è Torregrossa, girata però lenta tra le braccia di Grillo, finisce così il primo tempo la Marco Tomaselli in questa quarta giornata delle campionato juniores di serie D, Nissa 1, Licata 0 decide il gol al dodicesimo realizzato da Torregrossa, partiamo con l'ultimo della ripresa, al cinquantesimo la Nissa a cercare il raddoppio, Torregrossa in era di rigore per Sissè che si libera di un avversario scaricando all'indietro, dove arriva il tiro di Mannino e la presa da parte di Grillo, minuto 53, il Licata risponde, Genduso in azione personale, manda in calcio d'angolo russo, minuto 54 proprio dal corner che ne segue, arriva il gol del pareggio dei Canarini, Sferat con un destro avvolgente che termina in mezzo, dove Benici prende l'ascensore e fa 1 a 1, rivediamo lo stacco imperioso, dell'ex Santa Sofia Licata, è 1 a 1, tutto da rifare al Tomaselli, la gara in equilibrio, al cinquantacinquesimo c'è un cambio per la Nissa, tocca a Camarà al posto di Chiarelli, minuto 56, adesso il Licata ci crede, palla in profondità per Genduso che supera la difesa, entra in area di rigore, Genduso frena, se la porta dal destro al sinistro, ancora sul destro da dimenticare la conclusione, arriviamo fino al minuto 65, lancio lungo di Camarà in zona Torregrossa, l'autore del gol, manda in profondità, si sè, bella azione per la Nissa, ma il pallone finisce facilmente tra le braccia dell'estremo difensore, minuto 80, cross dalla sinistra che viene allontanato sui piedi di Genduso, va a calciare al volo, Brocca però ancora russo, minuto 81, 9 al termine, la Nissa non ci sta, lancio lungo di Mannino, il pallone in zona Napoli, riceve di prima la mette per la Monica, azione perfetta la conclusione però, viene leggermente ciccata e finisce sul fondo, minuto 82, il Licata risponde presente con Bennici che viene servito alle retrovie, la difesa non è perfetta da allontanare, ancora Bennici resiste alla carica, finisce giù nel contrasto, finisce giù e si guadagna un calcio di rigore, questa è la scelta da parte del direttore di gara, anche se le strattonate sembrano reciproche tra i due calciatori all'ottantatresima, allora la grande occasione sul sinistro di Bennici, ma c'è Russo che di altro parere riesce a tenere a galla la Nissa, super intervento per il portiere bianco scudato che di fatto nega i tre punti a Licata, ottantacinquesimo la Nissa invece si butta in avanti con un calcio d'angolo, la Monica sul secondo palo la rimetta all'indietro, Camarà la appoggia dove c'è Abba e la girata tra le braccia del portiere Grillo, entra Amico, siamo all'ottantasettesimo, finisce così la partita al Marco Tomaselli, quarta giornata del campionato Juniors di serie D, uno a uno tra Lissa e Licata, amici di Wissport è tutto a loro, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Grazie a tutti.